Ringrazio Alessandro Rambaldi per l'introduzione e l'invito e ringrazio in particolare AIL per avermi permesso di discutere in modo così diretto con la comunità dei pazienti di una malattia che io ricordo sempre è il centro del motivo per cui esiste l'ematologia come specialità clinica distinta. Io ricordo quando ero studente di tesi nell'università di Pavia il mio professore di ematologia mi diceva che il motivo per cui l'ematologia si era distinta e staccata dai reparti di clinica medica era dovuta alla necessità di avere una struttura dedicata alla gestione della complessità dei pazienti con leucemia acuta. Quindi veramente è una patologia che è al centro di tutta la nostra attività e dei nostri sforzi quotidiani al fianco dei pazienti. E ringrazio anche per l'assegnazione del compito di oggi cioè quello di parlare della diagnosi molecolare di cui sono particolarmente appassionato. Sono appassionato di questo argomento perché come sa chiunque segua la storia e l'innovazione in ematologia L'avanzamento nella nostra conoscenza della biologia della malattia è stata sempre alla base in tutte le malattie del sangue dei successi terapeutici nella cura dei pazienti. Anche nella leucemia acuta mieloide fare un inquadramento diagnostico corretto e esteso di ogni singolo paziente è la base per curare meglio e al meglio delle nostre possibilità ciascuna persona che si rivolge a noi per un problema così serio. Il tema di capire a fondo quali sono le basi biologiche della leucemia nel singolo paziente è un tema complesso. I primi successi in ematologia in termini di innovazione terapeutica sono avvenuti in patologie del sangue che avevano in qualche modo una causa lasciatemi dire semplice Cioè una unica alterazione del DNA presente in tutti i pazienti con una malattia specifica che ha dato il via a diverse innovazioni in tema di poter fare una diagnosi certa, sviluppare cure innovative e poter monitorare nel singolo paziente come andava la malattia durante tutto il percorso di cura. Nella leucemia acuta mieloide questo non è possibile, se vedete questa diapositiva è complessa ma la faccio molto semplice, questa è una diapositiva che riporta per ogni colonna del grafico tutte le alterazioni del DNA che possono trovarsi nei pazienti affetti con leucemia acuta mieloide e il riconoscimento di queste firme genetiche nel singolo paziente è importantissimo perché vedremo è alla base di tutto il nostro percorso decisionale in termini di poter offrire ai pazienti, a ogni singola persona, la miglior cura possibile. L'altezza di queste colonne è proporzionale al numero di pazienti che hanno una singola e specifica alterazione del DNA, vedete che ci sono alcune alterazioni che sono abbastanza frequenti ma il concetto generale è che noi diciamo il landscape, cioè il panorama delle alterazioni che possono avvenire nelle cellule staminali del midollo e condurano la leucemia è molto ampio. Quindi stiamo affrontando una malattia che pur essendo simile nelle manifestazioni cliniche in ogni paziente è molto eterogenea dal punto di vista della causa che nel singolo soggetto ha determinato l'insorgenza di un problema di salute così grave. Perché è importante sapere nel singolo paziente qual è la firma molecolare della malattia? Direi essenzialmente per tre motivi. Il primo è quello di aiutarci a fare una diagnosi corretta. Voi sapete che le malattie del sangue sono molto complesse e un tema importante è che c'è una certa sovrapposizione clinica e c'è una certa interazione tra diverse malattie del sangue. Quindi riconoscere con dei marcatori molto precisi qual è la diagnosi giusta e corretta in ogni singolo paziente ci aiuta a capire in modo molto preciso qual è l'ambito in cui dobbiamo intervenire dal punto di vista clinico. Il secondo motivo di importanza di fare un profilo molecolare aggiornato per i pazienti con leucemia acuta è che queste informazioni sono alla base della stratificazione prognostica che noi possiamo fare in questa malattia. ovvero sapendo qual è il profilo biologico di ciascuna malattia in ciascuno paziente riusciamo a capire il grado di aggressività della malattia e su questa orientare un trattamento più o meno intensivo a seconda delle necessità cliniche. Quindi se vedete nella parte sinistra della diapositiva i nomi sono in inglese e di questo mi scuso però il concetto è che più conosco della biologia della malattia più riesco a prevedere con precisione le componenti di prognosi del singolo paziente rispetto alle variabili cliniche e quindi a orientare meglio la scelta del trattamento nel singolo paziente. C'è un terzo motivo che è alla base della necessità di avere un profilo molecolare completo in ogni paziente con nuova diange di leucemia acuta ed è questo. È un concetto legato in modo molto forte all'innovazione farmacologica che finalmente dopo tanti anni stiamo sperimentando nelle leucemie acute. Come voi forse sapete bene negli ultimi anni si è assistito ad un aumento molto importante delle molecole che hanno avuto un'approvazione per uso clinico nei pazienti con leucemia acuta mieloide. Questo ha aumentato la possibilità di definire dal punto di vista clinico qual è il trattamento migliore per ogni singolo paziente e bisogna dire a questo proposito che sempre di più l'assegnazione del corretto trattamento al singolo paziente avviene in ragione delle informazioni che abbiamo con lo screening molecolare. Se vedete in questa diapositiva, mi scuso ancora è in inglese, però molte dei farmaci che abbiamo a disposizione oggi per il trattamento della leucemia acute e che avremo a disposizione a breve, cioè che hanno terminato il loro percorso di sperimentazione clinica, riconoscono indicazione in pazienti che hanno specifiche alterazioni del DNA. Quindi conoscere queste informazioni alla diagnosi è importantissimo per aumentare il grado di opportunità nel senso di accesso al trattamento di tutti i pazienti. Quindi se posso riassumere il concetto di queste prime tre diapositive, direi che dal punto di vista clinico avere un profilo molecolare di un paziente con leucemia acute è un imperativo categorico, come si studiava a scuola, cioè un'informazione essenziale per poter curare bene i nostri pazienti. Nell'ambito dell'ematologia italiana tutti siamo impegnati sia a livello di singole istituzioni che a livello di gruppi cooperativi regionali e nazionali per aumentare la nostra capacità in tutti i centri sul territorio nazionale che curano pazienti con leucemia acuta per avere accesso a diagnostiche avanzate che possono essere informativo sul profilo molecolare dei nostri pazienti. Questo è un lavoro molto prezioso che ha condotto Maria Teresa Voso e che ha tentato di fotografare qual è il grado di implementazione di uno screening molecolare molto esteso per i pazienti che hanno una diagnosi di leucemia acuta nella pratica clinica sul territorio nazionale. Abbiamo molte luci, cioè l'Italia è un paese che da sempre nella storia dell'ematologia ha capito quanto è importante investire nella diagnostica dei pazienti con malattie del sangue come presupposto essenziale per applicare una medicina efficiente e personalizzata ma vedete dalla percentuale di centri che fanno determinate alterazioni molecolari che c'è ancora del lavoro da fare e che il compito di sviluppo tecnologico della nostra comunità ematologica deve essere fortemente commissionato a migliorare il più possibile l'accesso a queste informazioni. C'è un altro motivo che mette al centro queste tecnologie diagnostiche nel percorso di cura dei pazienti con leucemia acuta mieloide e è legato alla possibilità sempre nel singolo paziente sapete l'ematologia è la parte della medicina forse più avanzata nel concetto di medicina personalizzata cioè nel concetto di prendere decisioni cliniche che sono il meglio per il singolo paziente che ho davanti dicevo l'importanza della diagnostica è associata anche il concetto di poter monitorare l'andamento della malattia durante un trattamento cioè capire in modo precoce e sensibile se la scelta di terapia che ho fatto in base alle informazioni di cui abbiamo discusso prima sta generando il beneficio clinico che mi aspetto nel singolo paziente. Questo è un percorso non scontato nonostante stiamo facendo una medicina molto personalizzata e di precisione purtroppo il risultato clinico ottimale che è quello che vorremmo per tutti i nostri pazienti non avviene nel 100% dei casi e quindi capite come è molto importante poter accorgersi precocemente per tempo se la strada che stiamo percorrendo è giusta e quindi dobbiamo insistere con la scelta che abbiamo fatto oppure se dobbiamo immediatamente cambiare opzione e cercare di combattere la malattia con armi diverse questo è il concetto della cosiddetta malattia minima residua cioè della capacità di trovare nel sangue e nel midollo dei pazienti durante il trattamento anche quantità minime di cellule leucemiche residue che se persistono durante il trattamento possono essere la causa di un fallimento e della ripresa della malattia quindi questo per dire che la biologia molecolare è una tecnologia che sta diventando importantissima anche per implementare nella pratica clinica questo tipo di monitoraggio e assicurarci ancora di più che stiamo facendo bene e abbiamo preso le scelte giuste nei nostri pazienti questa è la teoria ovviamente come abbiamo visto nei risultati della survey delle ematologie italiane non è facilissimo poter portare al letto del paziente tutte queste informazioni perché? perché la leucemia acuta ha delle caratteristiche molto peculiari che secondo me devono essere la base di un ragionamento per riuscire a fare dei progetti e degli avanzamenti specifici per questo ambito clinico e intanto è una malattia rara per cui diciamo è difficile avere dei laboratori che possano processare continuamente una grande quantità di campioni dando risposte in termini di informazioni per i pazienti molto rapide abbiamo visto che è una malattia molto complessa per cui i sistemi diagnostici per le leucemie acute devono essere mirati per questa malattia c'è poca interazione con altre patologie dell'ambito tumorale e anche poca intersezione con altre malattie ematologiche quindi le criticità dell'approccio diagnostico sono malattia poco frequente molto complessa estremamente specifica nell'approccio ma soprattutto il punto limitante della implementazione di un profilo molecolare nella pratica clinica è il fatto che nella leucemia acuta noi come medici dobbiamo prendere decisioni cliniche in tempi molto ridotti non c'è molto tempo per un paziente che ha ricevuto una diange di leucemia acuta per decidere come deve essere trattato il paziente perché l'aggressività della malattia ci impone delle decisioni in tempi molto molto rapidi quindi visto che siamo in tema natalizio diciamo che il regalo che noi come comunità ematologica vorremmo da Babbo Natale per i nostri pazienti con leucemia acuta è la possibilità di ottenere un profilo molecolare esteso per tutti i pazienti in pochi giorni idealmente in 5-7 giorni che è la finestra che normalmente possiamo avere in termini di sicurezza clinica prima di iniziare un trattamento per un paziente con nuova diagnosi che è rischioso di lazionare a tempi più lunghi come stiamo lavorando su questo? diciamo che voi sapete il sistema sanitario nazionale è un sistema complesso perché è diviso in 20 regioni che hanno un'autonomia decisionale nella programmazione sanitaria e tuttavia per poter farci e fare ai pazienti questo regalo di Natale che secondo me è assolutamente necessario per continuare a curare al meglio tutti i nostri malati abbiamo due scenari il primo sulla sinistra è quello di individuare pochi laboratori cosiddetti di riferimento che siano molto focalizzati su questo tipo di diagnostica e possono dare a tanti centri i risultati degli esami molecolari in pochi giorni questo è un sistema che è stato implementato in alcuni stati esteri con alto grado di successo nel sistema italiano l'implementazione di questa strategia è un pochino più difficile sia per la frammentazione regionale di tutti i laboratori sia perché chiaramente un laboratorio di riferimento necessita di un investimento da parte del sistema sanitario in temi di strutture e di capitale umano e sapete bene che in questi tempi di ristrettezze in temi di investimento sanitario non è una cosa molto facile da ottenere da parte dei nostri interlocutori l'altra strategia che è quella sulla destra è quella di mettere in rete tanti laboratori che sono esperti nel profilo molecolare delle leucemie acute e che possano in qualche modo unire le forze quindi un modello non centralizzato ma un modello diffuso che possa unire le forze per diciamo migliorare l'accesso a queste informazioni in tempi rapidi a tutti i pazienti almeno in una macro area che potrebbe essere quella di una regione italiana la discussione di queste strategie è tutt'altro che accademica abbiamo detto che le leucemie acute hanno delle caratteristiche particolari e quindi io penso che diciamo chi governa i nostri sistemi sanitari regionali debba sedersi al tavolo con i medici che conoscono questo problema nella sua specificità e con i pazienti che devono aiutare a ribadire quanto sia importante avere questa informazione per avere una soluzione del problema che sia specifica per questo tipo di malattia e insisto molto su questo tema non solo per la mia passione diciamo culturale per l'ambito ma perché spero di aver contribuito a chiarire che questo è un elemento basilare per migliorare la cura dei nostri pazienti e la possibilità di decidere correttamente il trattamento in ogni singolo caso quindi diciamo che ogni tanto mi capita di cercare di capire almeno per quanto riguarda la mia regione di appartenenza che è la Lombardia che sapete è una delle regioni che ha un livello di complessità di organizzazione del sistema sanitario più alto in Italia quale potrebbe essere la soluzione per raggiungere l'obiettivo ambizioso ma necessario di un profilo molecolare esteso dei pazienti con leucemia in pochissimi giorni e il diciamo la mia proposta mi è venuta in mente mentre ero pochi giorni fa in California San Diego al congresso americano della società di ematologia dove sono state discusse tra le novità più importanti nel trattamento della malattia di cui ci parlerà poi Maria Teresa Voso e ho pensato a quale potrebbe essere una soluzione assolutamente sostenibile che non richieda uno sforzo di investimento da parte della regione in termini di strutture capitali mano aggiuntive per massimizzare ciò che c'è già sul territorio per raggiungere questo obiettivo ambizioso e mi sono convinto che la soluzione è fare esattamente quello che fa Uber per facilitare la mobilità nella nelle grandi città voi sapete che Uber è sostanzialmente un'app che indica in diciamo macchine private che quindi insomma la società non ha acquistato nessun taxi ma con un network di macchine private che già sono presenti nella mobilità di una grande città ci aiuta a trovare qualcuno che ci può dare un passaggio verso il punto dove noi vogliamo andare io penso che almeno nella mia regione ci sono quasi dieci laboratori che sono accreditati per fare NGS cioè profili molecolari complessi nella pratica clinica nei pazienti con leucemia acuta mieloide e tuttavia siccome queste tecnologie sono molto complesse ciascun laboratorio non può impegnare tutto tutte le sue risorse tutto il suo personale per fare un test di questo tipo che è molto complesso immediatamente per ogni paziente che viene diagnosticato con leucemia acuta e tuttavia ho calcolato che in Lombardia ogni cinque giorni c'è un laboratorio che ha questa tecnologia che fa un test di questo tipo per cui se io potessi dal mio centro Humanitas nei confronti di un paziente con nuova di angio di leucemia acuta sapere che per esempio a Bergamo dal professor Rambaldi è programmata una corsa di NGS cioè un test molecolare complesso a pochi giorni di distanza e potessi inviargli il campione sono sicuro di poter avere la risposta in sette giorni con pochissimo lavoro in più per il laboratorio del professor Rambaldi e senza sconvolgere l'attività del mio laboratorio che non può correre per fare un test così complesso ogni giorno e vi ho spiegato questa cosa un pochino complessa ma solo per dire che la comunità ematologica è estremamente commissionata per cercare di trovare una soluzione a questo problema importantissimo per i nostri pazienti e devo dire che fino adesso i nostri interlocutori in regione Lombardia non sono stati molto sensibili a questo tipo di proposte per cui parlo anche a nome del professor Rambaldi anche se non l'ho diciamo preavvisato di questa cosa vorrei invitare formalmente AIL cioè la comunità dei pazienti con con malattie ematologiche a cercare di perorare questa causa anche in regione Lombardia per far capire a chi ci governa quanto è importante questa esigenza per i nostri pazienti e soprattutto che questo problema specifico si risolve solo parlando ad un tavolo in cui sono presenti i medici che conoscono questa patologia e i pazienti che sanno quanto è importante questo test per loro che sanno